Un bimbo di appena tre mesi è stato lasciato durante la notte nell'androne di questo palazzo che vedete alle mie spalle al civico 32 di Via Po. Ci troviamo nella zona di Saione. Questo fatto è appunto successo durante una delle notti più fredde che Arezzo registra in questo inverno perché la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero. Una vicenda che è stata poi chiarita dalle forze dell'ordine e soprattutto dalla pediatria del San Donato di Arezzo. Il piccolo è arrivato portato dalle forze dell'ordine, in specie la Polizia di Stato, è arrivato alle 2.20 di questa notte presso il nostro pronto soccorso, portato quindi da agenti della Polizia di Stato dopo che lo hanno recuperato chiamati da dei residenti di un condominio di Via Po, hanno trovato questo piccolo nell'androne della casa. Quindi era incustodito nel suo seggiolino ovetto, ben vestito, tanto che poi quando è arrivato è stato trovato in condizioni anche buone, molto buone. Quindi non era ipotermico perché uno può immaginare una serata fredda di gennaio, il bambino non era fuori, non era alla ghiaccio, è arrivato in condizioni buone, di benessere, temperatura corporea normale, ben vestito, quindi non era raffreddo, non aveva e non ha segni di maltrattamento. Quindi è stato preso dai colleghi del pronto soccorso, accudito e naturalmente dietro a questo poi si è mossa tutta la macchina, come potete immaginare, dagli accertamenti e delle indagini che sono tuttora in corso di tipo giudiziario. Attualmente sono in corso le indagini della Polizia di Stato per cercare di comprendere cosa possa essere successo questa notte. Nel frattempo è stata temporaneamente sospesa, la patria potestà e l'informativa è già stata segnalata alla Procura per l'apertura di un fascicolo e al Tribunale dei Minori. Ovviamente quando un minore che abbia subito un maltrattamento, comunque in qualche modo è una forma di maltrattamento anche questa, capita in un pronto soccorso, c'è una via che è quella della tutela del minore che passa avanti a tutti e chi è il referente in questi casi e il Tribunale dei Minori di Firenze a cui noi facciamo riferimento. È stato contattato direttamente il PM del Tribunale dei Minori che ha fatto un provvedimento, ha spiccato un provvedimento intanto provvisorio e urgente per cui il bambino è affidato a noi. Il padre del piccolo, un italiano di origini sudamericane, questa notte attorno alle 4 si sarebbe presentato all'ospedale San Donato di Arezzo in cerca del neonato. Avrebbe riferito di essere stato, in stato confusionale e di averlo dimenticato. Essendo che il bambino è affidato a noi dal Tribunale dei Minori, in questo momento i genitori sono stati sganciati dal figlio dal punto di vista della tutela giudiziaria.